come piacere alle ragazze 8 punti fondamentali quali sono le cose fondamentali da ricordare per piacere alle ragazze quali sono i punti chiave per piacere alle donne andiamo a scoprire un articolo di marco che ci spiega la questione come sempre faremo riferimento ad altri articoli o video che ti permettono di approfondire alcune tematiche se ne senti parlare nel video vuol dire che qui sotto nella sezione informazioni trovi link a queste risorse scrivo questo articolo perché alle volte sento uomini che fanno una cosa un po strana in tema di seduzione sebbene infatti leggano o seguano seduzione attrazione.com può capitare che si focalizzino su concetti particolari dimenticando le basi i punti chiave che non vanno scordati se vuoi piacere alle donne ad esempio qualche giorno fa ho conosciuto per caso un ragazzo che segue e pratica ciò che insegniamo in questo sito si ricordava un sacco di cose ed è stato interessante discutere con lui c'era solo un problema un grandissimo problema non lo sentivo parlava con un volume di voce molto basso e un tono sommesso quando un uomo così si trova davanti a una donna può sapere anche tutte le tecniche di seduzione del mondo ma con un volume di voce così basso e un tono così sommesso non riesce ad esprimere sufficiente energia maschile costruire la seduzione senza basi è come costruire una casa senza fondamenta puoi metterci il tetto più bello del mondo ma la casa crollerà andiamo quindi a definire quali sono le cose che non devi assolutamente dimenticarti quelle proprio di base fondamentali ok igiene e pulizia di base lo so ragazzi per alcuni sono veramente cose ovvie ma da quello che vedo in giro c'è da fare questo discorsetto con qualcuno non mi dilungo tanto perché ne abbiamo già parlato ti rimando all'articolo apposito l'articolo sull'igiene personale e cura della persona trovi il link qui sotto al video tra le informazioni vestirsi ok è il minimo quando parliamo di look possiamo distinguere tre situazioni fondamentali 1 vestirsi male 2 vestirsi ok 3 vestirsi bene andiamole a vedere vestirsi male ovviamente l'intervento più urgente da fare è quando un uomo si veste male te lo dico schietto vestirsi male ti toglie una valanga di punti nel piacere alle ragazze e capiamoci male vuol dire proprio male male del tipo maglione della nonna male del tipo camicia orribile male del tipo scarpe da tennis e pantaloni fuori taglia una serata un po elegante se ti vesti così male non chiedermi nemmeno come posso piacere alle ragazze perché non ti rispondo se prima non ti dai una sistemata e arrivi al secondo step ok vestirsi ok questa è la situazione nella quale si trovano la maggior parte degli uomini vuol dire né vestirsi male né essere particolarmente bravi nella cura del proprio look questo nella seduzione non ti toglie né ti dà punti riguardo al piacere alle donne allo stesso tempo se non vuoi partire svantaggiato nella conquista di una ragazza ti conviene assicurarti di essere almeno vestito ok perché vestirsi male e provare a sedurre una donna è come iniziare una gara partendo 100 metri dietro la linea di partenza puoi vincere comunque puoi sedurre comunque certo ma perché fare tutta questa fatica inutile in più non ha senso vestirsi bene vestirsi bene vuol dire fare un passo in più non significa seguire per forza la moda anzi né comprare cose costose ci mancherebbe vuol dire invece indossare abiti che esaltano le tue caratteristiche questo ovviamente ti dà punti in più avremo modo di affrontare questo importante argomento nei prossimi mesi conversazione puoi conoscere tutte le tecniche di seduzione che vuoi ma se non sai mantenere una conversazione a cosa servono a nulla molti ragazzi ci scrivono che non sanno cosa dire quando parlano con una donna soprattutto se appena conosciuta ci scrivono che non hanno argomenti che non sanno di cosa parlare se guardiamo da vicino la questione notiamo però che la realtà è diversa pensa quando parli con i tuoi amici rimani senza argomenti molto spesso non accade ma ti dico di più nel momento in cui accade quando si crea silenzio non sei imbarazzato come con una donna giusto non sei proprio imbarazzato non ci fai nemmeno caso i silenzi sono imbarazzanti solo se tu li vedi come imbarazzanti il problema non è che non hai argomenti quando parli con una donna è che prima di tutto cerchi argomenti che pensi siano alla sua altezza all'altezza della donna che vuoi sedurre e in secondo luogo sei un po in ansia per eventuali silenzi che tu reputi come imbarazzanti come risolvere primo evita di selezionare inconsciamente argomenti che pensi siano all'altezza della donna con cui parli parla di tutto secondo evita di essere imbarazzato quando si crea silenzio fai invece una cosa molto più utile guardala negli occhi è un modo perfetto per flirtare terzo impara a tirare fuori nuovi argomenti puoi farlo con dei semplici esercizi che trovi sia nell'ebook attrazione immediata che nell'ebook come conoscere donne nuove trovi il link qui sotto flirtare il flirtare è un atteggiamento che mira a generare una cosa molto semplice attrazione attrazione di una donna verso di noi si può fare in molti modi e ognuno sceglierà quelli più coerenti con la propria personalità nell'articolo riguardante il flirtare ad esempio parlo di cinque modi che sono mandare segnali misti atteggiamento di chi sa già come andrà a finire giocare sul non detto trattare la ragazza che vuoi sedurre come se fosse la tua piccola sorellina giocare a fare la coppia errori il semplice evitare gli errori più grossi ti porrà in vantaggio rispetto al 99 per cento degli uomini là fuori parlo di errori proprio di base come ad esempio aspettare che sia lei a portare avanti il gioco della seduzione farsi mettere i piedi in testa fare troppo o troppo presto il bravo ragazzo spendere allo scopo di attrarre la donna a cui vuoi piacere fare troppe domande tipo interrogatorio voce se ti capita di parlare con le persone ti chiedono di ripetere quello che hai detto perché non hanno sentito sai su cosa devi lavorare ma anche se non ti senti dire così lavorare sul volume della tua voce è comunque importante come fare molto semplice impegnati a parlare un po più forte questo non significa urlare ma semplicemente alzare un po il volume ti dico subito cosa succederà all'inizio le prime volte che lo farai ti sembrerà di parlare troppo forte è normale hai parlato con un volume più basso per tutta la vita e sei abituato a sentirti così evita di preoccupartene troppo e continua a mantenere il volume un po più alto in poco tempo ti verrà naturale linguaggio del corpo ne abbiamo parlato tantissimo ma ancora vedo tanti ragazzi in giro con un linguaggio corporeo molto chiuso e questo non va assolutamente bene se vuoi piacere alle donne senza andare ora troppo nello specifico vediamo le due cose più importanti uno spalle aperte e rilassate non vuol dire fare il soldatino semplicemente aprire un po le spalle ma stare comunque rilassato due occupa spazio attorno a te sia quando sei seduto che quando sei in piedi non tenere stare stretto stretto nel tuo spazio apri il tuo corpo non solo ti sentirai meglio ma esprimerai anche più energia maschile ora che abbiamo capito come fare nella pratica andiamo a vedere un argomento un po più complesso ma allo stesso tempo veramente importantissimo il punto è questo mentre parliamo di seduzione possiamo dire cose come per piacere alle donne è necessario fare questo e quello c'è utile per capirci in realtà però questo modo di pensare questo modo di vedere la seduzione potrebbe essere dannoso non è una buona forma mentis non è un modo efficace di vedere la questione perché perché se quando vedi una donna che ti piace pensi come faccio per piacerle ti metti nello stato mentale in cui lei è quella che giudica e tu sei il giudicato perché fa male perché in questo modo il tuo obiettivo inconscio sarà cercare di impressionarla di cercare la sua approvazione e questo non va assolutamente bene qual è invece il modo più efficace per vedere la situazione quale potrebbe essere uno dei pensieri che ti possono passare per la mente quando incontri una donna che ti piace potrebbe essere ad esempio ho voglia di flirtare con lei di divertirmi assieme a lei in questo modo ti poni sul suo stesso livello e l'attrazione si crea in modo molto più facile ovviamente non devono essere per forza le esatte parole che ho scritto io ognuno ragione in modo diverso ma la forma mentis di base è sempre quella e comprende le seguenti cose siamo sullo stesso livello nessuno dei due è superiore o inferiore la seduzione è un gioco divertente quindi divertiamoci assieme no abbiamo terminato se ti è piaciuto il video dacci un bel mi piace cliccando qui sotto e iscriviti al canale youtube per non perderti i prossimi un saluto da tutto il team di seduzione attrazione punto com iscriviti al canale iscriviti al canale